La proposta di Lega, in questi ultimi giorni c'è stato un po' di movimento dentro la Lega anche per quell'articolo che mi sembra abbia pubblicato Panorama, sull'anima nera della Lega, la moglie di Bossi, mi racconti un po' che cosa è successo. E allora Panorama, edito dal Presidente del Consiglio di Silvio Berlusconi, ha attaccato la moglie del suo principale alleato, il suo amico Umberto Bossi, con un articolo in cui c'era questa eminenza grigio-nera, la moglie di Bossi, tra l'altro siciliana, che pare abbia avuto un controllo sempre maggiore del marito, marito che come sappiamo tutti è malato da tempo, ma che ultimamente ha avuto anche diversi acciacchi fisici tra un problema di un occhio e una caduta rovinosa che gli ha portato alla frattura. Quindi quanto più Bossi ha difficoltà di tipo fisico a gestire se stesso, quanto più l'eminenza grigio-nera emerge e determina la linea della Lega. Questa è la ricostruzione di Panorama, una ricostruzione che ovviamente alla Lega non è piaciuta per due motivi. Prima perché ha freddo, totalmente senza una ragione. Non ci sono stati dei momenti, degli episodi, dell'attualità politica tali da poter giustificare il fatto di mettere in mezzo la moglie, che fino al giorno prima era assolutamente irrilevante dal punto di vista mediatico. E in secondo luogo, loro, a differenza nostra che siamo tutti un po' precisi e abbiamo paura di esporci, la Lega ha ben chiaro chi è l'editore di Panorama e ha detto che il Premier deve riferire. Quindi spostando la questione da una questione di tipo giornalistico a una questione di tipo politico, come è giusto fare secondo me. Mentre noi, chi vota centro-sinistra, mi aggiungo tra di loro, è sempre un po' così, ha sempre un po' paura di dire qualcosa in più, di mostrare invece i rapporti di causa-effetto tra editore televisivo, editore giornalistico e politico. Beh, comunque il rapporto c'è per forza, no? Eh sì, ma adesso è chiaro, per troppi anni non è stato così chiaro, è stato sempre un gioco di timidezze, non si è mai votato la legge su conflitto di interessi, dico cos'è abbastanza ripetuto, però è evidente che il problema non è stato sentito come cruciale nella gestione dell'economia e della politica italiana. Invece in questi ultimi anni, con un mix di legge ad personam, macchine del fango, gente che deve mettere via i propri averi dalla RAI e così via, si capisce bene che la questione è proprio il cuore del berlusconismo e che è stato sbagliato non affrontarlo direttamente subito. Senti, ti vorrei chiedere, si potrebbe dire che con questa ondata di intercettazioni, dichiarazioni, probabilmente quella che è l'impalcatura del berlusconismo, chiamano così, stia sgretolando? Che cosa ne pensi di queste ultime notizie, novità? Allora, l'impalcatura del berlusconismo stava sgretolandosi per via politica principalmente, nel senso che Berlusconi ha una maggioranza da dicembre che si basa sulla offerta di posti e favori a politici presi da tutte le parti in cambio di questi favori. Quindi la maggioranza che politicamente non esiste più. Non esiste più neanche nel paese, nel senso che non c'è assolutamente una maggioranza italiana pronta a votare Berlusconi, era già falso più di un anno e mezzo fa e ancora di più adesso. Quindi lo sgretolamento nasce per via politica. È indubbio che un Presidente del Consiglio che si pone in situazioni di illegalità vera o da accertare ripetutamente non sarebbe sopravvissuto in nessun altro Stato nel mondo e pure da noi c'è. Quindi volendo vedere il lato positivo di Berlusconi è vero che si sta sgretolando ma è anche vero che altrove non sarebbe qui. Quindi è un processo naturale anche questo, un processo comunque, pur sempre 75 anni Berlusconi di compiere il 26 settembre e il suo declino ci sarebbe stato comunque forse un po' più lento, forse un po' meno doloroso per lui, però è ovvio che se perdi pezzi di maggioranza come ha caduto i confini e ti metti nei guai per i fatti tuoi con tutte le cose che stanno emergendo adesso dalle inchieste, è chiaro che è una fine in cui Berlusconi ha avuto il suo peso autoresionistico non indifferente. Credo che tu abbia visto l'intervista di un paio di giorni fa a Terry De Nicolò. Certo che sì, ho anche scritto un pezzo sul valigio a blu sull'argomento. Voglio sapere che cosa ne pensi. Io guardo di questa dinamica con grandissima attenzione e serietà, talvolta mi prendono anche in giro i miei amici perché mi metto lì davanti a queste interviste, col tacquino, mi segno le frasi e provo a trasformare questi episodi in analisi vere e proprie. Io infatti ritengo che quella intervista sia assolutamente straordinaria e illuminante nel descrivere un sistema di potere, un'antropologia del sistema di potere berlusconiano nei suoi dettagli. Terry De Nicolò ha detto quello che lei, le persone che stanno accanto a Berlusconi e forse lo stesso Berlusconi pensa del mondo che gli sta attorno. Ha detto cose chiarissime, ha detto che per il successo uno deve essere pronto a tutto, che la bellezza è una competenza, essere belli è un valore spendibile sul mercato, che se sei racchia quindi te ne devi stare a casa, quindi la bellezza come criterio di selezione è di merito. Ha detto che se sei onesto non hai nessuna possibilità di emergere o di fare successo, che quindi il successo deve andare a ripasso con gli legalità, sono proprio dei pilastri di un sistema, non è solamente il suo parere personale, è un sistema politico che io ho definito antropologico nel mio articolo, perché penso che siano questioni e pensieri condivisi da una parte di Italia ben superiore a quella che noi spereremmo sia. Abbiamo letto appunto ondate di persone che si sono arrabbiate moltissimo per queste uscite da Nicolò, ma secondo me c'è una parte non minimale della popolazione italiana che in silenzio, senza dire nulla, avrà pensato che però le ha ragione. Finché continuiamo a pensare che le parole di una escort o di una prostituta, perché dovremmo imparare a chiamare le cose con il loro nome, le parole di una prostituta siano squalificanti proprio solamente perché ha chiamato una prostituta faremo un errore gravissimo, cioè ci lasceremmo prendere dei pregiudizi e degli stereotipi, cosa che noi non ci possiamo permettere assolutamente il lusso di fare. Quindi piuttosto di quell'intervista colgo il lato illuminante di una persona che conosce fin troppo bene il sistema politico italiano, perché l'avendolo frequentato molto da vicino, per essere stata in mezzo a dinamiche di potere molto forti e molto pericolose e quindi tratterei appunto questo tipo di intervista con la massimo rispetto e deve essere quell'intervista più che una fonte di rabbia, una motivazione per chi la pensa diversamente, per mettersi appunto l'impegno di costruire una società più giusta, migliore e in cui quello che la di Nicolò ha raccontato venga spazzato via nel più breve tempo possibile. Pensi sia possibile? Sì, sono assolutamente fiducioso. Un ottimista insomma. Sì, fiducioso, nel senso che appunto tu prima parlavi di una certa stanchezza generalizzata dell'Italia, io penso che quella stanchezza si possa trasformare facilmente in energia laddove ci sia un progetto politico, sociale, culturale, chiaro. L'Italia non ha voglia di stare a fare guerra perpetua, si sentono in guerra già da diversi anni, soprattutto quelli che non amano Berlusconi e penso che ci sia molto più voglia di costruire appunto modelli, regole e valori che siano condivisibili dalla maggioranza degli italiani, cioè una fortissima area cattolica che silenziosamente sta digerendo tutto lo schifo che sta arrivando da quella parte, che non vede l'ora di essere coinvolta in progetti appunto positivi, che non tanto ideologici, non tanto che abbiano a che fare con la destra e con la sinistra, ma che abbiano a che fare con la giustizia, che è un concetto molto vago allo stesso tempo però molto chiaro. Chiarissimo. Senti, per passare all'ultimo argomento che volevo affrontare con te, ti vorrei chiedere qual è la situazione al momento degli immigrati sia in Puglia che in Sicilia? Allora, noi da noi in Puglia abbiamo avuto un paio di momenti difficili. Prima a Manduria, tra Manduria e la provincia di Brindisi, tra Ori e Manduria in particolare, dove appunto ci sono state fughe dal centro temporaneo, dal CIE, tra l'altro un centro che è stato costruito in fretta e furia senza alcun preavviso a parte del ministro dell'interno nei confronti della popolazione locale, quindi è stato vissuto da un certo punto di vista come una forzatura nei confronti del territorio pugliese. Però ai pugliesi devo riconoscere un straordinario esercizio di tolleranza, perché pur avendo ricevuto questa novità piuttosto improvvisa e sono riusciti a non perdere la testa, così come i migranti, pur essendo particolarmente arrabbiati e hanno tentato in tutti i modi di scappare da quel centro, non hanno causato particolari disagi. C'è stato un altro problema invece qui vicino, a Palese, un altro centro di identificazione e espulsione. A un certo punto c'è stata una fuga probabilmente organizzata da alcuni malviventi locali, non locali, ma malviventi delle varie etnie che erano presenti lì, che erano finiti in Italia, anche loro scappando, ma che avevano organizzato delle sacche di violenza e che hanno creato una giornata di panico qui in città, causando diversi feriti sia tra le forze dell'ordine che tra i migranti. La situazione adesso pare calmata in Italia, mentre in Sicilia abbiamo assistito tra ieri e oggi a delle scene preoccupanti, sia per la violenza degli scontri, sia per la reazione dei politici locali che hanno detto cose che trascendono dalla comprensione e dalla toleranza. Sentire il sindaco dire che era pronto a difendersi barricandosi e che chiedeva a Maroni di espedire immediatamente 1.500 malviventi, sentire il vice sindaco oggi dire che era pronto con i bastoni a colpirli, che erano tutti quanti dei criminali, non fa altro che occupire ovviamente la tensione, io non so come si possa vivere in uno stato appunto di prigione, perché il CIE sostanzialmente sono dei carceri tecnicamente provvisorio, ma in realtà appunto non si sa mai quando si esce, in che condizioni si esce. Quindi in situazione di libertà limitata, con condizioni igieniche sanitarie inesistenti, per un periodo di tempo molto lungo, io non so se si riesce ad essere sereni, lucidi e se non si ha l'istinto che hanno avuto i migranti di uscire e provare anche la violenza, che io non giustifico, però capisco lo stato di disagio e non capisco invece l'assenza di comprensione da parte dei nostri amministratori locali in questi casi.